Buongiorno, il mio nome è Jordan Adams e per gli ultimi 8 anni mi sono svegliato ogni giorno con il dolore lombare. Ogni singolo giorno. Il dolore colpisce la zona lombare e mette fuori uso la mia gamba a sinistra. Ho dovuto quasi del tutto dire addio alla mia vita normale. Ho provato agopuntura, 4 differenti visite da 4 differenti specialisti, cuscinetti riscaldanti, massaggi, creme. Alcuni di questi metodi hanno funzionato ma solo temporaneamente. Nessuno ha risolto realmente il problema. Poi ho trovato InstaLife. Non so dirvi quanto abbia cambiato la mia vita. Ho finalmente trovato sollievo e il mio corpo rivive nuovamente. Da subito ho indossato InstaLife per due ore al giorno come consigliato. Poi sono arrivato fino ad 8 ore al giorno e qualche volta lo indosso anche per andare a dormire la notte. Lasciate che vi dica una cosa. Fa esattamente quello che dice di fare. Il mio dolore è scomparso al 100%. Non solo la mattina quando mi alzo ma durante tutto il giorno. Ci sono voluti quasi 20 anni ma adesso ho una qualità di vita migliore con InstaLife. InstaLife è un sistema infallibile di agopressione che aiuta istantaneamente ad alleviare il dolore nella zona lombare lungo tutto il nervo sciatico, sulle natiche e negli arti inferiori. Ma perché un tutore che sta sotto il vostro ginocchio dovrebbe eliminare il dolore lombare? Il dolore lombare si trasmette solitamente attraverso il nervo sciatico, che è il nervo più lungo del corpo, parte dalla zona lombare e si estende lungo gli arti inferiori. Il cuscinetto di InstaLife comprime delicatamente il punto di agopressione nel centro del polpaccio, così da intercettare il dolore prima che possa irradiarsi su e giù per il corpo. I segnali dei nervi scendono e risalgono. L'efficacia del tutore InstaLife consiste nel trattamento alla base del problema per aiutare la zona superiore. Scoprirete che ci saranno molti momenti nella vostra vita quotidiana in cui InstaLife sarà indispensabile e passerete da un dolore lancinante a sentirvi perfettamente in forma. Se sentite dolore al lavoro potete usare InstaLife. Se fa male mentre vi allenate, InstaLife è lì per aiutarvi. Più nessun dolore alla schiena mentre giocate con i bambini, più nessun girarsi e rigirarsi nel letto. Trascorrerete una buona notte di sonno con InstaLife e naturalmente sotto i vestiti nessuno saprà che lo indossate. InstaLife sarà il miglior investimento che avete mai fatto. Una visita da uno specialista costa circa 200 euro e nessuno necessita mai di una sola visita. Sommatela a medicinali, lozioni, cuscinetti riscaldanti e creme e spenderete centinaia di euro al mese. Ora date uno sguardo al prezzo di InstaLife. Non c'è paragone! InstaLife non è disponibile nei negozi. Questa trasmissione è la tua unica opportunità per acquistarlo. Con InstaLife non sentirai più dolore. Da oggi puoi sorridere con gioia invece di urlare di dolore. Da oggi con te c'è InstaLife. Chiama ora per informazioni!